Attenzione bambini! Nasce il libro delle favole di Carlo Varesi. Dal primo aprile una nuova iniziativa editoriale dedicata ai più piccoli. 12 racconti da ascoltare e guardare prima di fare la nanna. Preparatevi, mancano solo otto giorni! Il libro delle favole vi aspetta ogni primo giorno di ogni mese. Il libro delle favole dal primo aprile e non è uno scherzo!